Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 10 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo vergine. Confusi dalla luna all'opposizione. Tutta colpa della luna all'opposizione, a braccetto con Saturno, se oggi le emozioni sfuggono dal controllo, dandovi un'impressione di disorientamento. Il partner vi appare in una luce diversa, forse migliore o forse peggiore, ma comunque irreale, e lo stesso accade a lui con voi. Il problema è il dialogo, parlate troppo poco per condividere a fondo anche le sensazioni più sottili, ma il sentimento è tenace e sincero, garantito come un robusto fuoristrada. Se nonostante il weekend il lavoro vi chiama per qualche ora, approfittate almeno del tempo libero per immergervi nella natura che nella fase di rinascita vi ispira e vi rasserena, incoraggiandovi ad uscire dall'etargo. Forma fisica capricciosa, avete bisogno di riposarvi e ridratarvi. Equilibrio e armonia, bene le amicizie e le coppie. Potrebbero esserci anche proposte di matrimonio o convivenze interessanti. Buona salute sia fisica che spirituale, riconoscimenti e giustizia. Giuste opportunità in amore e sul lavoro. Mettetevi l'animo in pace, qualcuno che vi piacerebbe rivedere sta tardando e ci sono buone probabilità che si faccia attendere oltre il dovuto. Datevi da fare di più se volto tenere quello che vi siete preposti, non lasciate oggi nulla al caso, ma sappiate leggere gli eventi e sfruttare le opportunità che oggi non mancheranno. Spostate la vostra attenzione sulle cose concrete, avete perso troppo tempo a inseguire chimere e a darvi da fare su cose per cui non valeva la pena. Magari cercate tra le pieghe del vostro inconscio e liberate la forza che è in voi. Se non provate almeno a sbloccare certe situazioni oggi, ne pagherete le conseguenze ben presto. Se vi sentite svogliati e con poche forze cercate di scuotervi. Una persona vicina a voi, da tempo, vi desidera e vi vuole un garn bene, in ogni caso non approfittate bene mai umiliandola o peggio servendo bene a vostro piacimento. Il mondo va affrontato con coraggio, oggi avrete un'occasione preziosa per mostrare a tutti che non amate nascondervi e sapete assumervi le vostre responsabilità. Se avete avuto una storia extra con un ariete, oggi vi convincerete che in fondo la colpa è stata solo vostra, non avete retto nel dover affrontare decisioni importanti e avete preferito la fuga. Oggi non mostratevi insofferenti con amici e colleghi, fate in modo che non si accorgano minimamente dei vostri problemi e cercate di absare per quelli spensierati e senza nessun problema. La luna promette per i nati di lunedì e giovedì, incontri piacevoli e ricchi di sorprese. In tutti i sensi possibili e immaginabili. Si presenta un cielo sereno variabile per voi questa giornata. Sole, Mercurio, Saturno e Luna sono contrari dai pesci e possono far insorgere qualche lieve stanchezza nel gestire i rapporti familiari e affettivi in genere. Giove e Urano restano invece super favorevoli e contribuiscono a rassudare le sicurezze economiche, aumentando contemporaneamente le soddisfazioni, anche morali, che arrivano dalla propria professione. Antipatica la luna all'opposizione, ancor più il suo accompagnatore Saturno, che vi isola dal mondo facendovi incontrare soltanto persone tristi e malinconiche, quella fetta di umanità che anziché tirarvi sull'umore ve lo fa precipitare in cantina. Amore ed Eros. Partner con la faccia da funerale senza una vera ragione, confrontando il suo caratteraccio con quello di altri, guardam caso i compagni di vita dei vostri amici, vi sentite veramente sfortunati. Dio li fa poi li accoppia, dice il proverbio, ma nel vostro caso deve essersi sbagliato scambiandovi con qualcun altro. Soluzione, prenotatevi un viaggetto da soli o in compagnia di qualche amico, la lontananza sarà la cartina al tornasole, se lui o lei vi mancherà e viceversa, vuol dire che nonostante tutto dovete restare insieme, questione di karma, se invece sarà la sua assenza a rendervi felici, fateci un pensierino e cominciate a contattare un avvocato. Stabilità e volontà di costruzione, queste sono le parole chiave del vostro voler rimanere in coppia in questo momento. Non vi curate di avere troppe ambizioni, non vi importa di ottenere chissà che. Il vostro temperamento ordinato e fedele offre e promette serietà, chiede e dà dedizione. In armonia alla vostra vera natura chiedete alla persona che vi è accanto sincerità, pulizia morale. Urano e Giove molto positivi vi aiutano a farvi rispettare anche da chi amate profondamente. I nati nella seconda decade con Saturno in pesci contrario non si lasciano tentare da facili evasioni e intemperanze erotiche, se sono accasati. Lavoro e denaro Mercatino dell'antiquariato, che passione! Vi aiutano l'occhio clinico e un fiuto da volponi, con poche parole decise vi portate via un pezzo da 90, ottenendo pure uno sconto speciale, ancora più avvantaggiati se l'ambulante è un tipo timido e ha ottime ragioni per disfarsi al più presto della merce in vendita. In questa giornata di metà marzo un film che potreste aver perso e che si confà alle caratteristiche del vostro segno e l'ultima notte di amore è una pellicola del 2023 scritta e diretta da Andrea Di Stefano. Protagonista è Pierfrancesco Favino che al vostro segno della Vergine appartiene. Benessere. Intolleranze in agguato, a una cena lussuriosa state in guardia, tra vassoi di golosità la tentazione si fa irresistibile, ma se non ne conoscete la composizione accontentatevi di un bel piatto di verdure e di una macedonia di stagione. Denaro Vi lasciate tentare oggi dal gratta e vinci. Giove è dalla vostra parte se siete nati dal 31 del mese di agosto al 4 di settembre e vi invita a essere ottimisti. Per lei, freddezza da parte di familiari allontanati da questioni di principio. Occhio a non perdere di vista la reale dimensione del problema. Per lui, sfuggite a un'atmosfera fredda e ovattata, stile vittoriano, in cerca di calore e spontaneità. Ma il passato sentimentale ritorna e vi tocca affrontarlo. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, nuvoloso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 10, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.